Allora, vi giuro che io non lo faccio in posto a spawnare su queste strutture, sto in creative, come al solito mi scordo sempre di mettere il puntatore, mi si ricorda appena inizio la rec, ho trovato questa roba, un guagno, dei pantaloni in oro, protezione dai proiettili 1 e una zappa d'oro con tocco di velluto. Guardate, tutta sta roba qua, boh, io sono spawnato qua, preciso, tipo qua stavo, boh, non mi ricordo, tipo su sto blocco qua comunque, no, più in alto, sta che qua stavo, sì, qua stavo, su sto blocco qua, perché vedevo tutto, questo, fino a là. Allora, comunque oggi abbiamo una nuova mod da provare, dato che siamo spawnati qua vicino e ci stanno tutti questi animali, direi di provarlo proprio qui questa mod, la ghicchia un po'. Allora, vediamo prima una cosa di buttare tutti questi oggetti fuori e di prendere proprio il coso della mod, gli oggetti della mod, se ci sono, se la mod funziona correttamente, in teoria ci dovrebbero essere, essere, sì, funziona. Ci abbiamo il cargo helicopter, l'attack helicopter, il tactical cargo track e l'attack helicopter automatico. Quindi sono delle radio che chiameranno dei veicoli che arriveranno qua, qua c'è una roba mia, sì, proviamolo qua, sì, sì, proviamolo qua, anzi no, mettiamoci più sai qua. Questo quindi è il cargo helicopter, ecco qua, sono dei veicoli SCP, come vedete, tutto un po' pixeloso, però, andiamo, oh mio Dio, lo possiamo, lo possiamo pilotare, vedete, ora, oh porca trota, ok, stiamo scendendo, però, come si fa a rimanere in superficie? Eh, non si può, mi sa, forse con le litre bisogna mettersi, eh, perché funziona tipo il cavallo, c'è sta barra come al cavallo, eh, non lo so come funziona, è un po' strano, facciamo shift così, usciamo, però è bellino, dai, spacchiamo un po' sto coso. Fateci lo screenshot, tanto ve lo ritrovate comunque all'inizio video. Attack helicopter, proviamolo, ok, questo è un po' più piccolo, no, più o meno uguale. Il tactical, il tactical, tactical, è più grosso dell'elicottero, bene, sempre SCP, e poi l'attack helicopter automatico, vedete, sta andando, raga, è partito, mio Dio. Oh, mi ammazza, no, sì, sì, sì. Ok, raga, pilotiamo questo, oh mio Dio, questo è bellissimo. Oh, mio Dio, se, se riusciamo a superare sto fiume, mmm, sì, proviamo. No. Siamo andati offline, raga, off, acqua. Siamo andati in the water, con il camion di SCP. Questo. Creiamo nei quanti più possibili, raga. Ecco, vedete, tutti ammassati così. Così sembra proprio la foto... Non scompaiono. Ah, no, è perché è buggata la mod. Bene. Pilot, dove sono? Ok, andiamo. Questi... Questa mod è bellissima. Quindi questo è un modo, se volete, di viaggiare anche in vanilla, se la possiamo mettere anche nel vanilla craft. Spero che la possiamo aggiungere anche in survival, ma non penso che questi veicoli sono craftabili. No. Non sono craftabili questi veicoli, ma passa anche attraverso? No. Eh, io... Eh, no, siamo... Io non so dove siamo, però non vedo niente. Oh, ah! Oddio. Eh, dai, però... Due... Ma come abbiamo fatto? Ma muori. E' un coso. No, raga. No. No, 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 funziona. Funziona il cargo automatico qua. Il coso qua. Il calacazze. Scusate. Il coso qua. L'attacco elicoptero funziona. Quindi se noi mettiamo delle uova di tipo di scheletro, abbiamo messo che funziona. Proviamo con tutte le uova a sto punto. Uovo. Sì, è un uovo. E prendiamo l'uovo di zombie. Uovo di zombie. Batteria 15%. Bene. E anche con la bestia suprema. Il predone. C'è un bel po' di zombie. Eh, ma muoiono. Va bene. Guardate che funziona. Lo vogliono attaccare i zombie, però lui vola. Bene. Ma non è che sta sparando. Sì, invece. Vediamo se spawna qualcuno con l'armatura. Sì, un po' con l'armatura stanno spawnando. Ecco, guardate. Scusate il disastro che si starà sentendo. Abbasso un po' il volume. Scusate se si sentirà un disastro, comunque. È per provare l'efficienza. Guardate i colpi. Guardate i colpi. Si vedono dei pixelini. Eccoli qua. Eccoli. Vedete? Sentite? La mitragliatrice che spara. Bellissimo. Poi andiamo un po' più lontano. Esponiamo il predone. Che è quel vaccone enorme. Ecco qua che c'è la tank elicottero. Automatico. È già messo. Eccolo. E lo sta picchiando, ovviamente. Ecco, vedete? Vediamo se si vedono i proiettili pure qua. Sì. Che colpiscono il bufalone. Però non fanno tanto danno. Penso su delle frecce normali. Sì, fanno un bel po' di danno. Vedete però com'è bello sto elicottero, raga. Io non lo so. Il cargo track è bellissimo. L'attacco... L'elicottero d'attacco questo. Questo qua automatico è bellissimo perché va da solo. Però questo, il cargo elicottero, apri cosa? Sconosciuto. Bene. Vediamo quando atterra perché è atterra da solo. Vabbò. Non sono verde. Eliminiamo una da registrazione. Ma sono spariti. Ah no, che ve l'ho lasciato ovunque. Bene. Quindi... Io... Spero che questo video... Scusate se... Sono andato via un attimo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Comunque questi sono tutti i mondi che c'erano. Vanilla Craft S2, Mod, Mod 2, Mifum, Fit, Budget, E il mio mondo. Che sono tutti i mondi delle mod, ragazzi. E perché ogni volta i mondi mi si distruggono con queste mod. Quindi ne devo fare un altro. Vabbè, me li elimino tutti, dai. Vi faccio vedere pure quanti giochi ci ho. Guardate. Comunque, piccolo spoiler. Anche in questo video arriverà una serie su Clash of Clans e Clash Royale. Ciao!